eccoci qua con i biscottini e panno di zenzero realizzati con questa particolarità appunto del zenzero proprio invitati per le cristianità. Questi biscottini pensati nascono nell'immaginario della regina di paletta di una d'inghilterra che faceva preparare la sua servitù proprio in onore degli ospiti più importanti in ricorrenza appunto delle peste proprio perché sono particolari buoni e velocissimi nella realizzazione. Vogliamo scoprire la ricetta? Primeriamola insieme. Versate la farina in una ciotola, aggiungete le spezie, lo zucchero di canna, lo zucchero semolato, il pizzico di sale e il bicarbonato. Mescolate con una forchetta, aggiungete adesso il burro fatto a pezzetti ben freddo dovrete creare una sabbiatura. Aggiungete il miele, aggiungete l'uovo, mescolate bene tutti gli ingredienti fra loro, sempre con la forchetta e poi lavorate l'impasto con le mani. Trasferite l'impasto su un piano da lavoro leggermente infarinato, lavoratelo leggermente, formate una palla, schiacciatela leggermente e copritela con della pellicola alimentare. Ponete il panetto in frigorifero per almeno due ore. Trascorso il tempo necessario prendete l'impasto, dividetelo in due o tre parti e con un mattarello formate un cerchio, dello spessore di 4-5 mm. Con un taglia biscotti fate una leggera pressione e formate questi graziosi biscottini. Io ho realizzato degli ometti delle regne e delle stelle. Metteteli in una teglia ricoperta con carta forno ben distanziati e infornateli in forno preriscaldato modalità statico per 12 minuti. Si dovranno dorare. Eccoli qua pronti per essere sfornati. Fateli raffreddare su una griglia per dolci. Eccoli qua tutti in fila, pronti per essere decorati. Passiamo alla preparazione della ghiaccia reale. In una ciotola mettete lo zucchero vanigliato, aggiungete l'albume, mescolate, aggiungete il succo di limone e continuate a mescolare. Et voilà! La ghiaccia è pronta per essere trasferita in una sac à poche oppure in un piccolo biberon per dolci. Prima di decorare i biscottini fate la prova col dito e ora possiamo sbizzarrirci nella decorazione. Questi biscottini così invitanti, con quel leggero pizzicore grazie allo zenzero, profumatissimi grazie alla cannella. Uno tira l'altro, ve lo garantisco. Si mantengono freschi, come appena fatti messi in una scatola di latta per almeno tre settimane, oppure chiusi in deccelofan trasparente, magari infiochettato con un bel nastro rosso, ottimi come il regalo di Natale. I bambini impazziscono e non solo. Ma che dite, non sono carini? Non vi è venuta voglia di provare a realizzarli anche a voi? Io penso proprio di sì. Io intanto sono pronta per gustarmelo subito, uno alla volta. Gli biscottini e un pane di zenzero, guardate come sono carini. Sono pronti per essere regalati. La ricetta l'ha trovata nel mio blog che vi ricordo è www.monichaincucina.it. Vado subito a imparghettare. A presto, da Monica in Cucina. Naturalmente, un nuovo ricetto. A presto, da Monica in Cucina. Naturalmente, un nuovo ricetto. Ma pericolare. La ricetta vi è piaciuta? Mettete un like, pollice in su, iscrivetevi al mio canale e condividete nei social. Monica vi aspetta presto con nuove ricette.